Putin sembra volere sfruttare questo fatto per un escalescio militare. È possibile che da questo attacco terroristico ci siano delle conseguenze sulla guerra in Ucraina e sulle tensioni con la Nato? Con la guerra in Ucraina sì. Nel senso che ci si intererà una rappresaglia, aumenteranno come sono già aumentati gli attacchi aerei e gli attacchi missilistici, colpendo anche indiscriminatamente i civili. Poi se saranno capaci faranno qualche omicidio mirato. Io penso per esempio al fatto di colpire la dirigenza dell'intelligenza ucraina, che tra l'altro in queste ore è proprio cambiata. Sì, sì, la loro grande spina nel fianco. Io non penso tuttavia invece che ci sarà un tentativo di alzare la posta, di fare all-in nel rapporto con la Nato, per una ragione semplicissima, che è politica. E vede, e Putin sta aspettando le elezioni americane del 5 novembre. E sa perfettamente che se dovesse vincere Trump, lui troverà negli Stati Uniti un interlocutore. D'altro canto Trump l'ha dichiarato in maniera esplicita. Se vinco le elezioni, dopo pochi giorni farò la pace in Ucraina. E quindi vuol dire che Zelensky sarà messo a posto da Trump. Esattamente. Ma c'è un rischio che Putin sa che non può correre. Se lui dovesse attaccare un paese Nato, un paese Baltico o la Polonia, e questo avrebbe una ripercussione immediata sull'orientamento dell'opinione pubblica americana. Per intenderci, Biden a quel punto vincerebbe le elezioni a mani basse. Perché anziché avere un conflitto semicongelato in Ucraina, avremmo una guerra che minaccia direttamente le democrazie. Prima fra tutto la democrazia americana. E a quel punto Trump apparerebbe unfit, non adatto a guidare quel passaggio. E Biden ritornerebbe in carica. E Putin è particolarmente attento a non fare errori politici. Ecco, però se Trump dovesse abbandonare Zelensky, dicendo noi non ti aiutiamo più, adesso fate la pace, che poi è questo. L'Europa che cosa potrebbe fare? Perché a questo punto è evidente che una pace fatta così avvantaggerebbe molto Putin. Ci sarebbe forse il rischio addirittura di un governo fantoccio, di un governo, diciamo, filo russo a Kiev, un cambio di regime, eccetera. A quel punto noi che cosa facciamo noi come europei? Perché Macron dice che dobbiamo mandare le pattuglie, le truppe europee dentro l'Ucraina. L'Europa deve fare tre cose. La prima, continuare a fornire supporto per il materiale armamento. Perché una delle cose che possono succedere è che la Russia attacchi, non per sfondare, ma che ci sia una carenza di materiale armamento degli ucraini che non sono in grado di rispondere. Secondo, non deve mandare uomini sul terreno. Per una ragione semplicissima, perché mandare uomini della Nato sul terreno in Ucraina significa di fatto innescare una guerra mondiale. D'altro canto, gli ucraini non li hanno chiesti gli uomini. Gli ucraini vogliono mezzi, vogliono munizioni, non vogliono uomini. Anche perché hanno uomini a sufficienza. Terza cosa. L'Europa deve accelerare prepotentemente l'ingresso dell'Ucraina dentro l'Unione Europea. Perché noi abbiamo un dovere di dare al popolo ucraino una certezza che c'è un continente, l'Europa, che gli garantisce la sicurezza e che gli è grato per il fatto che loro hanno combattuto e sono morti per la nostra libertà. Gli garantisce la sicurezza e gli garantisce la ricostruzione economica. Vede, l'Ucraina dentro l'Unione Europea non è la stessa cosa che entrare nella Nato. Sarebbe un segnale che rassicurerebbe moltissimo il popolo ucraino e la leadership europea. Gli consentirebbe anche di fare una trattativa sapendo perfettamente che la trattativa non significa arrendersi. Significa poter discutere. Ma dire che l'Ucraina è un pezzo dell'Europa dà una forza alla leadership ucraina di poter trattare la pari. Tra virgolette, di non presentarsi con le braccia alzate. Senta, veniamo a Gaza.